bene approdati signori e siorri sul mio canale oggi siamo tutti qui riuniti per fare un video che non vedevo l'ora di fare e cioè dedicato alla nuova paletta di anastasia beverly hills riviera questo look che mi vedete l'ho realizzato esattamente con lei non volendo mi è uscito fuori un vintage look pin up anni 50 che fa tanto rimini rimini proprio delle classiche commedie all'italiana quelle che si svolgevano in estate sulla spiaggia si mi piace mi sento tanto pin up comunque proseguendo con il video pensavo di lasciarvi per ora al tutorial in modo da poter vedere più o meno all'opera la palette e di rivederci all'ultimo per considerazioni finali e swaps via il tutorial ciao ciao Grazie a tutti. 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 Vi lascerò un po' e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.